Sanità, Bassano, passione comune in calza, la sindaca Pavan poteva e doveva fare di più. Campagnolo, i dati sulle liste d'attesa non rispecchiano quello che ci racconta la gente. Ex PM Galvanica si avviano alla conclusione i lavori di bonifica. Dopo le polemiche la sindaca Pavan torna sul Ponte Vecchio a fare propaganda politica. Residenti di San Vito imbufaliti per una nuova piazzola ecologica tra le case. A Cassola nei guai un estetista abusiva che faceva iniezioni di filler in casa. Il Giro d'Italia arriva a Bassano, tutte le novità e le informazioni sulla viabilità. L'argine del Muson a Campo San Piero, iniziata la posa delle parancole. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione di Bassano ed intorni. In apertura la sanità che si intreccia con quella che è la campagna elettorale a Bassano perché la lista Bassano-Passione Comune incalza l'attuale sindaca Elena Pavan e dice che la sindaca di Bassano poteva e doveva fare di più per la sanità dei bassanesi. La sanità bassanese resta al centro della campagna elettorale, ma non come slogan né come tema propagandistico. È centrale perché è un'esigenza della comunità, è una criticità che i cittadini da anni avvertono, raccontano e per cui chiedono una soluzione. Liste d'attese infinite, disagi con le prenotazioni e una tendenza avvertita da molti di una sanità sempre più indirizzata verso il privato. Cittadini che dopo centinaia di segnalazioni e migliaia di firme continuano a chiedere aiuto. A chi? Alla politica e a chi amministra Bassano. Perché? Bisogna che il sindaco, che le amministrazioni comunali si riappropriano del potere che hanno. Non è vero che la sanità non compete al sindaco, è vero che compete principalmente alla regione, però il sindaco di Bassano presiede la conferenza dei sindaci e in qualità di presidente conferenza dei sindaci siede anche in conferenza permanente a Venezia. In conferenza permanente a Venezia passano tutte le DGR, le delibera di giunta regionale quando devono andare in commissione quinta e quindi per un parere obbligatorio. Ma il passato è ricco di scelte che furono determinate in qualche maniera dai sindaci del Bassanese e in primis dal sindaco di Bassano. Ma oggi, in calza Riccardo Poletto, la realtà è quella di un ULS sempre più lontana dalla gente. Se stiamo a una fuga dal privato da parte dei cittadini per disperazione e a seguire anche una fuga verso il privato di professionisti, non è possibile per noi cittadini pagare mensilmente in busta paga il servizio sanitario nazionale e poi dover mettere in conto anche all'anno un torto di spese per la sanità private. Ecco che a darle le risposte interviene la lista Bassano Passione Comune con una proposta che parte da una presa in carico della politica di questa situazione. Rapportarsi in maniera forte e decisa con la gestione sanitaria, la direzione sanitaria e chiedere quelli che sono i cambiamenti e gli accorgimenti necessari perché il nostro ospedale rimanga all'avanguardia, che non si continuino a perdere delle apicalità mediche come sta succedendo in questi ultimi tempi e che soprattutto ci sia un impegno nell'ascolto di quelle che sono le difficoltà dei cittadini trovando delle soluzioni per ad esempio diminuire le liste d'attesa. Le nostre proposte concrete sono quelle che se verremo eletti un consigliere comunale della nostra maggioranza, della nostra lista, venga delegato dal sindaco a supportare e ad aiutarlo in quella che è il monitoraggio e il rapporto con la ASL 7. E sulle problematiche nell'ULS 7 interviene anche il candidato sindaco Roberto Campagnolo che fa chiarezza soprattutto sulla questione legata alle liste d'attesa. Sul tema della sanità e dei disagi nell'ULS 7 si è espresso anche il candidato sindaco Roberto Campagnolo, uno dei politici che in questi anni ha portato sui tavoli comunali e regionali i problemi di organizzazione nell'azienda ospedaliera. Noi intanto proponiamo di ascoltare, di continuare ad ascoltare le persone e di non possiamo girarci dall'altra parte. Questo stiamo facendo in campagna elettorale, qualcuno fa finta che il problema non esista, il problema purtroppo c'è, basta ascoltare le persone, le persone e soprattutto quelle che sono in maggior difficoltà, non riescono ad accedere neanche alle cure primarie, alla diagnostica, situazioni burocratiche incredibili, situazioni personali che continuano ad esserci raccontate, incredibili, che proprio non tengono conto della dignità della persona. Uno dei punti critici resta quello delle liste d'attesa. A tal proposito, Roberto Campagnolo puntualizza alcuni aspetti. Non si può non notare una distanza tra i dati che ci vengono raccontati sulle liste d'attesa dove sembra che i tempi siano dei tempi accettabili e ragionevoli e quello che sentiamo dai cittadini che invece ci dicono che non hanno risposte e che devono aspettare molti molti mesi per avere una data per una prestazione diagnostica. Ecco che Campagnolo porta un esempio concreto. Alla mia domanda, con impegnativa del medico di avere una visita specialistica, non è stata data come risposta a una data, ma è stato detto richiamiamo noi. Da quella richiesta che ho inviato per mail sono passati otto mesi, io non sono stato più chiamato, potrebbe succedere come succede a molti che vengono chiamati oggi e ti dicono tra 20 giorni hai la visita, accettala oppure no. Nel frattempo magari uno ha già fatto una visita presso un privato o ha trovato un'altra soluzione perché otto mesi sono tanti e il dato statistico è che in un mese ti hanno dato la risposta, in realtà è otto mesi più un mese, quindi sono nove mesi nel caso in cui dovessero chiamarmi per darmi una risposta. Non è possibile anche avere liste d'attesa in cui alcune richieste galleggiano, non sono conteggiate perché non ti danno la risposta e poi quando ti chiamano per dirti guarda che la possibilità c'è, la prima affermazione non è guardi ci scusiamo, la visita è possibile farla, ma addirittura arriva la domanda ma le serve ancora quella visita, quasi a dare per scontato che nel frattempo il cittadino o la cittadina magari ha trovato una soluzione da sé. Abbiamo parlato di sanità, adesso parliamo di salute, ci spostiamo a Tezze sul Brenta, all'ex PM Galvanica perché si avviano alla conclusione i lavori di bonifica. L'ex PM Galvanica, la fabbrica dei veleni, si sta per scrivere la parola fine sulla terribile vicenda che ha riguardato l'azienda di cromatura di Via Trecase, a Tezze sul Brenta, colpevole di uno dei casi più grandi a livello nazionale di inquinamento di falda acquifera da cromesa valente e nickel. Un danno incalcolabile all'ambiente e alle persone. Il sito oggi è ancora sottoposto a bonifica e con l'ultimo finanziamento si completerà il lavoro di messa in sicurezza dell'intera area che sarà concluso in via definitiva nel 2026. Complessivamente questo inquinamento ha costato alla regione ai contribuenti 14,7 milioni di euro, 13,6 dei quali sono stati messi dalla regione Veneto attraverso la legge speciale per Venezia. È sempre barcato che ci illustra in cosa consiste quest'ultima fase di lavori di bonifica. Viene lavorato il materiale contaminato qui, poi viene fatta tutta una barriera che ha una profondità di 24 metri, quindi stiamo parlando di un setto davvero importante. E poi alla fine viene messo un capping, una copertura a chiusura dell'area, in modo tale che non sia più un problema per nessuno. E finalmente potremo ridare al territorio una porzione di Veneto che ha creato tanti e tanti problemi. Ed è categorico sul tema delle responsabilità. Non è possibile che uno arrivi, inquina, poi viene beccato, fa un patteggiamento, si fa due ore di carcere e poi amici come prima. E no, non è così che funziona, perché qui noi usiamo soldi dei contribuenti che sono i soldi di tutti noi. E questa gente qua non paga. E allora ci deve essere una normativa che sia davvero efficace. Chi commette reati come questi, coscientemente, deve passare la vita in carcere. Non può avere attenuanti. Torniamo adesso alla politica bassanese. Oggi il responsabile nazionale di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, sul Ponte Vecchio per rilanciare il partito verso le europee. In Fratelli d'Italia ha fatto una scelta di generosità. Invece di impuntarsi per mettere un nome del proprio partito, ha scelto di rimanere a servizio di chi ha ben governato la città. Andiamo avanti, che questa è la strada migliore. Lo sappiamo delle difficoltà che incontrano e che hanno incontrato soprattutto nell'ultimo periodo i comuni. Su che cosa bisogna ragionare e su che cosa bisogna muoversi, agire concretamente per superare questi ostacoli? Sicuramente bisogna riuscire anche in Europa, grazie anche al risultato che farà Fratelli d'Italia, riusciremo a sbloccare risorse. Bisogna chiudere con l'esperienza di ideologie che hanno bloccato lo sviluppo dei comuni. Abbiamo visto scelte ideologiche, in realtà serve pragmatismo, servono scelte che nella quotidianità apportano ricchezza, lavoro, benessere e per questo Fratelli d'Italia in prima linea. Non su tutti, un ostacolo su tutti, il patto di stabilità. Non c'è ombra di dubbio, sono state fatte alcune modifiche, ma purtroppo in Europa si risente la presenza della sinistra nella maggioranza. Più voti prenderà Fratelli d'Italia, più preferenze prenderà Giorgia Meloni, più saremo forti a difendere gli interessi dell'Italia in Europa. Finora abbiamo sempre sentito dire lo chiede l'Europa. Già oggi in Europa si sente dire lo chiede l'Italia. È la strada giusta, dateci ancora più forza e cambieremo davvero le cose. E abbiamo visto le immagini della conferenza stampa di stamattina, di Fratelli d'Italia, proprio sul Ponte Vecchio. Non sono mancate le polemiche, scopriamo perché. Ci risiamo dopo l'abordata di polemiche per la presentazione, qualche settimana fa, della ricandidatura di Elena Pavan sul Ponte Vecchio con tanto di bandiere e loghi di partiti politici. La sindaca uscente torna a farsi immortalare sul monumento nazionale con una gigantografia del logo di Fratelli d'Italia. Per giorni e giorni in città aveva divampato la polemica sul comportamento di Elena Pavan in occasione della sua presentazione alla stampa sul Ponte. Un luogo che, lo ricordiamo, non è adibito a propaganda politica. Un monumento nazionale sul quale anche il semplice buonsenso e il rispetto per ciò che quel ponte rappresenta suggeriscono di non esibire simboli politici. E invece stamattina è tornato buono il detto coniato da qualche bassanese solo pochi giorni fa. Errare e umano. A perseverare ci pensa la sindaca Elena Pavan. Per l'ennesima volta la sindaca Pavan usa il Ponte degli Alpini per propaganda politica. La sindaca Pavan e i suoi partiti sembrano essersi appropriati in questa campagna elettorale del ponte che, ricordiamolo, è un patrimonio di tutti i bassanesi ma anche di tutti i turisti che vengono a visitarlo ogni giorno. Deve essere lasciato libero dai simboli di partito e non deve essere usato per propaganda politica. Da Bassano spostiamoci adesso a Cassola. Anche lì la campagna elettorale entra nella fase calda e Stangerin punta sul sostegno della Lega. Cassola è tra i comuni che l'8 e il 9 giugno andranno al voto e la campagna elettorale in paese è entrata nel vivo. La lista insieme per Cassola, che conta 16 candidati e porta le insegne della Lega, negli ultimi due mandati ha fatto parte dell'amministrazione Maroso e punta alla continuità amministrativa, confermando il sostegno al candidato sindaco Gian Antonio Stangerlin. A volte le diversità portano ricchezza e questo è il nostro caso, nel senso che più idee, più idee diverse portano confronto e magari trovare delle soluzioni più intelligenti. Si tratta di una coalizione con varie anime, la nostra, dentro questa coalizione c'è anche il contributo della Lega e questo per noi è importante. Che cosa chiedono i cassolesi? Quali sono le necessità, le priorità a cui chiedono una risposta, una soluzione? Le domande sono sempre legate a anche piccole cose, l'ordine, il decoro eccetera, ma ci sono però delle spine nel fianco del nostro comune che vengono particolarmente avvertite, specialmente in alcune zone del paese, mi riferisco all'isola dello sport. E poi cerchiamo di stare vicini anche ai cittadini che stanno sopportando ormai da tempo i lavori dell'attuale bretella. Abbiamo anche delle altre opzioni importanti, la riqualificazione della caserma con un annesso parco, è molto importante giocare a questa partita in maniera intelligente. E poi nelle varie frizioni, tipo Sanzeno, c'è il sottopasso che ormai è in via d'arrivo, e Cassola con un miglioramento della viabilità e un miglioramento della vita del paese in maniera generale. E il cammino verso l'appuntamento elettorale dell'8-9 giugno, noi continueremo a raccontarvelo giorno dopo giorno con tutti gli ultimi aggiornamenti. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di una segnalazione che ci arriva dai residenti di San Vito a Bassano, residenti imbuffaliti dopo che è stato dato il via libera alla realizzazione di una piazzola ecologica tra le case. Vediamo. Qui è stato deliberato dal comune di costruire un'ecopiazzola con tre ecocompattatori, con l'accesso per tre camion e con quattro campane. Rinunciando alla raccolta porta a porta tutti i cittadini di San Vito devono venire qua a conferire i loro rifiuti. E monta la protesta di uno dei quartieri più popolosi di Bassano, San Vito, con oltre 6.000 abitanti, dopo la delibera comunale che ha dato il via alla realizzazione di un'ecopiazzola in piena area verde, in pieno centro abitato, andando a penalizzare in maniera importante l'intero rione. Il tutto nel silenzio più assoluto da parte di chi occupa il palazzo municipale, dicono. Nessuno è stato avvisato, non è stata fatta nessuna riunione, né niente. L'ultima riunione del comitato di quartiere di tutto si è parlato, tranne che di compattatori e di raccolta rifiuti, assolutamente. Cosa chiedete? Chiediamo che non venga fatta qui l'ecopiazzola, semplicemente, perché non ci sembra giusto che sia insediata qui vicino alle abitazioni e oltretutto togliendo un grosso pezzo di verde. È l'unico che abbiamo in questa zona e per il quale stiamo già combattendo da anni. Che l'area verde venga vincolata. Oltre alla richiesta del vincolo dell'area verde, hanno fatto partire una raccolta firme per dire no all'isola ecologica. Evitare questo brobrio, questo assassino del quartiere San Vito. Sicuramente chi ha la casa qui intorno ha una svalutazione enorme del loro bene. Questa strada è chiusa da un anno, non si capisce perché è un deposito dell'Etra. Perché? Il cittadino ha bisogno di essere rispettato, interpellato quando si fanno delle azioni di un certo peso. Bisogna rispettare, sentire. Questa è la politica che deve fare. E si rivolgono a chi prossimamente si troverà a governare la città di Bassano. Io vorrei che dopo queste elezioni ci sia un sindaco che prenda per mano tutto quanto, che ci faccia rigenerare questa zona. Non si può, non si può permettere questa cosa. Insomma, chi vive a San Vito non si fermerà davanti a nulla. E anche nei nostri Tg continueremo a seguirli e darvi conto della situazione. E come detto, una vicenda che non finisce qui. Noi continueremo a dar voce ai cittadini di San Vito e a raccontarvi l'evolversi della situazione. Adesso voltiamo pagina. Dopo l'ultimo attacco dei lupi a Rozzo, parla il sindaco Lucio Spagnolo. Una signora mi ha chiesto, sindaco se tu avessi dei bambini piccoli come i miei, li lasceresti là ad aspettare il pulmino in quella zona del paese? A cuor leggero non lo farei neanche io, visto che è la stessa zona dove sono passati i lupi per andare ad attaccare le pecore dietro. C'è paura a Rozzo, c'è paura in tutto l'altopiano a causa delle continue predazioni dei lupi. Sono tre gli attacchi registrati da inizio dell'anno, sono più di dieci gli animali uccisi a pochi passi dal centro abitato. In questa stagione abbiamo già subito il terzo attacco. Sono stati attaccati delle pecore un mese fa, sono stati attaccati due asinelli, uno sbranato e un altro ferito che poi è morto per le ferite alcune settimane fa. E poi l'ultimo agguato nel weekend, predate quattro pecore protette da un recinto a doppio filo elettrificato, elettricità che però non ha fermato la fame dei lupi. Lupi, animali predati, cittadini e sindaci, un imbuto dove fluisce un problema che al momento non trova soluzione. Chi deve fare qualcosa non possono essere i sindaci, ai quali peraltro viene sempre delegato ogni tipo di responsabilità perché poi la fine del grande imbuto della responsabilità finisce sempre nei sindaci dei paesi e questo è inaccettabile sia umanamente per i sindaci ma sia sotto il profilo legale perché così non si può più andare avanti. Una soluzione, secondo il sindaco di Rozzo, che partirebbe dal censimento dei lupi. Secondo me vanno censiti e se sono troppi vanno eliminati e per eliminati intendo che potrebbero anche essere spostati, io non so come fare, però certamente non possono lasciarci i lupi in casa. A Cassola, guai per un estetista abusiva. Estetista abusiva, priva di qualsiasi titolo abilitante e non iscritta ad alcun ordine professionale, eseguiva in casa iniezioni di filler a base di lidocaina e acido ialuronico. Nei guai una 46enne residente a Cassola che aveva allestito nella sua abitazione un laboratorio estetico dove operava clandestinamente. Tramite il passaparola era riuscita a procurarsi decine di clienti cui proponeva trattamenti estetici. Sono stati i militari della finanza che durante alcuni controlli sul territorio hanno notato un anomalo via vai di persone, per lo più donne, dall'appartamento dell'estetista. Scattati i controlli, le fiamme gialle hanno appurato l'attività illecita della 46enne che tra le altre cose effettuava iniezioni in condizioni igieniche precarie tanto che alcune delle fruitrici hanno riportato effetti collaterali dopo i trattamenti. La stanza adibita al laboratorio è stata sequestrata così come tutto il materiale usato dalla donna durante la sua attività illegale. Per lei sono scattate una denuncia per esercizio abusivo della professione medica e una sanzione amministrativa. Notizia di servizio, viabilità modificata sul Ponte Nuovo a Bassano da lunedì 27 maggio fino al 27 giugno per manutenzione straordinaria. Sarà chiusa la pista ciclopedonale sul lato sud del ponte e sarà istituito il divieto di sosta in alcuni posteggi del parcheggio Bermax. E adesso restiamo a parlare in un certo qual modo di viabilità perché domani è il gran giorno, a Bassano arriva il Giro d'Italia. Vediamo tutte le informazioni che riguardano i cambiamenti per la viabilità. Conto alla rovescia per la ventesima tappa, quella di Bassano del Grappa, del Giro d'Italia e naturalmente molte le variazioni e le limitazioni alla circolazione. Di vieto di sosta con rimozione di veicoli lungo il percorso di gara via Colmoschin, via San Benedetto, via Passalacqua, via Brigata Basilicata dalle 6 del 25 maggio fino alle 19. Rimozione anche in Viale delle Fosse, Piazzale Giardino, Piazzale Trento. Sospensione totale della circolazione dalle 5 del 25 maggio fino alle 20 lungo via Parolini, via Remondini, Viale delle Fosse, via Chilesotti, via dell'ospedale eccetera. Ci sono poi altre modifiche come doppi sensi di circolazione, deviazioni, sospensione della ZTL. Per sabato prevista la chiusura delle scuole secondarie di primo e secondo grado a Bassano e anche la chiusura straordinaria della biblioteca civica e la sospensione del mercato settimanale. Ci spostiamo a Campo San Piero dove continua la stima dei danni per il maltempo. Si lavora senza sosto un'opera di ripristino della porzione di argine del Muson dei Sassi franato una settimana fa a lungo via Guizia a Campo San Piero. Camioni e ruspe non si fermeranno neppure nel fine settimana per continuare l'inserimento delle parancole. Lingue di lamiera lunghe circa 7-8 metri ciascuna, l'ultimo atto per rendere stabile e impermeabile il terreno posizionato lungo circa 80 metri. Se l'emergenza è passata non è passata la preoccupazione. Le piene ripetute di questi giorni potrebbero aver creato altri danni lungo l'argine del torrente. Una frana è già stata riparata in via Tiso a poco meno di un chilometro ma potrebbero essercene altre. Nel frattempo le 50 famiglie attività colpite dall'alluvione continuano a lavorare. Sgomberate case e aziende d'acqua e fango buttato il materiale inservibile va avanti la conta dei danni che solo nelle aziende più vicine alla rottura potrebbero superare il milione di euro in attesa che gli uffici comunali predispongano i moduli per l'avvio delle richieste di risarcimento. Cantieri lungo la nuova strada del Santo per i prossimi due fine settimana. Per i prossimi due fine settimana ci saranno delle chiusure lungo la strada regionale 308, la nuova strada del Santo per ulteriori lavori di asfaltatura da parte di Veneto. Strade che coinvolgeranno la zona tra Campo d'Arsego e Cadoneghe. La chiusura coinvolgerà lo svincolo di bronzo da Campo d'Arsego fino allo svincolo di Cadoneghe in entrambe le direzioni ed è prevista fino alle 6 di lunedì 27 maggio e poi da venerdì 31 maggio fino alle 6 di lunedì 3 giugno negli stessi orari. I lavori verranno eseguiti nel fine settimana quando il traffico è ridotto per creare meno disagio e la viabilità. La circolazione infatti sarà dirottata lungo le strade secondarie. Appuntamento in prima serata, questa sera con il Focus, gli ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli saranno Guido Bertolazzi, Marzio Favero, Ivan Palasgo, Giorgio Pasetto, Giulia Principalli, Massimo Venturato e Marco Zabai. Io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione. TG Bassano finisce qui, vi lascio al meteo e vi auguro una buona serata sempre su Rete Veneta. Grazie a tutti.